È una soddisfazione immensa, pensando da dove siamo partiti, l'anno scorso il Mantua era retrocesso in Serie D e siamo partiti praticamente da zero e nel giro di un anno ci troviamo qua a festeggiare una Serie B sicuramente non aspettata, ma per tutto il lavoro che è stato fatto sicuramente è stata accolta con ancora più gioia da parte nostra e da parte di tutti i tifosi mantovani nello specifico.